Dalla schermata iniziale, per registrare un nuovo account, è necessario selezionare la voce dedicata. Nella schermata che si apre, vengono richiesti dati anagrafici e personali dell'atleta, come ad esempio nome, cognome, sesso ed altri. Attenzione alla data di nascita, al peso e all'altezza inseriti, in quanto verranno successivamente utilizzati per alcuni calcoli e personalizzazioni presenti nell'app. Successivamente viene richiesto di inserire un'immagine per il profilo, scattabile al momento o selezionabile tra quelli presenti nel telefono. Infine, non rimane che inserire indirizzo mail e password che faranno da credenziali per l'accesso e premere il bottone di salvataggio. A procedura conclusa, un messaggio ricorderà di attivare l'account tramite la mail inviata all'indirizzo inserito in precedenza, altrimenti la registrazione non potrà essere finalizzata.